Stai decidendo di realizzare una siepe e non hai ancora deciso quale pianta usare? Puoi fare una siepe di piante rampicanti, un sistema moderno e molto decorativo per ricintare il tuo spazio verde che permette anche di risparmiare del terreno, in quanto i rampicanti si sviluppano soprattutto in altezza e poco in profondità, permettendo così di schermare il giardino occupando meno terreno di una siepe tradizionale. Se desideri una siepe rampicante sempreverde puoi utilizzare il falso gelsomino o l'edera. Il falso gelsomino, rincospermum jasminoides, è forse il più bello dei rampicanti sempreverdi per il fogliame verde lucente, per la folta vegetazione e soprattutto per la magnifica fioritura tardo primaverile formata da numerosissimi fiori bianchi a forma di stella. Dotato di crescita veloce, preferisce un'esposizione a piano sole o a mezz'ombra, ma può vivere anche in zone di ombra completa, purché luminosa, sopporta temperature fino a meno 10 gradi. Una valida alternativa per chi non apprezza la fioritura del gelsomino o per chi ha bisogno di arbusti molto resistenti al freddo, anche in zone montane, è l'edera ebernica. È forse l'edera più diffusa, con foglie di medie dimensioni, di colore verde scuro e percorse da striature grigie. Nelle regioni assolate e calde preferisce una collocazione all'ombra, almeno parziale, sopporta temperature fino a meno 20 gradi. Esistono anche rampicanti semi sempreverdi, sono quegli arbusti che nei climi caldi non perdono le foglie nel periodo invernale, mentre con temperature rigide le perdono in parte o del tutto. Le principali varietà sono la lonicera e la passiflora. La lonicera o caprifoglio è una bella pianta dal fogliame ornamentale e con abbondante e profumata fioritura estiva. Di facile coltivazione in qualsiasi terreno, anche in ombra totale, può raggiungere i 3 metri di altezza. Facile da mantenere, resiste sia al vento che al freddo invernale. La passiflora è un rampicante rustico, famoso per la bellezza dei fiori blu e bianchi, che sbocciano per tutta l'estate. In autunno i fiori lascia nel posto a deliziosi frutti arancioni, detti anche frutti della passione. Non esigente in fatto di terreni, vive bene anche in quelli poveri. Se invece vogliamo che il nostro giardino sia illuminato dal sole anche nel periodo autunnale e invernale, possiamo realizzare una siepe di piante rampicanti a foglia caduca. La vite del canadà o partenocissus quinquefoglia è un vigoroso rampicante con bellissimo effolto fogliame, formato da piccioli di 5 foglie verde scuro. È dotata di radici con le quali si aggrappa qualunque sostegno, anche fino a 20 metri di altezza. In autunno le foglie diventano di colore rosso scarlatto. La vite del Giappone o partenocissus tricuspidata ha una struttura leggera, con fusti sottili muniti di viticci adesivi, attraverso i quali si aggrappa senza bisogno di sostegni. Le foglie verdi in autunno assumono una splendida colorazione rossa. Vive in qualsiasi terreno e come la vite del canadà è molto resistente alle basse temperature. Rampicanti rustici e senza esigenze in fatto di terreno, i glicini sono presenti in molti giardini di tutta Italia, sia in pianura che in montagna. Da maggio a giugno si riempiono di grappoli di fiori colorati e profumati, molto vistosi e decorativi. Il folto fogliame crea una densa barriera, in grado di coprire rapidamente muri, pergolati e ringhiere. Puoi trovare le piante rampicanti in vendita sul nostro sito letuepiante.it